E-commerce controlla distanza dei lavoratori, ha automazione di molti aspetti della nostra vita. Ecco, lei è un sociologo, una persona che studia questi cambiamenti, è preoccupato di quello che sta succedendo? Io non sono preoccupato della tecnologia o dell'innovazione, sono preoccupato della mancanza di cultura dell'innovazione, cioè per esempio la diffusione dei media digitali con le loro implicazioni che stiamo man mano scoprendo con grande ritardo, è uno dei segnali del fatto che quando arriva una nuova tecnologia la cultura e la società deve riuscire a stare al passo, altrimenti si crea quello che poi gli esperti chiamano ritardo culturale. Faccio un esempio della nostra storia che abbiamo dimenticato. La prima vittima di incidente automobilistico c'è stata nel 1869. Ci sono voluti 100 anni prima di introdurre le cinture di sicurezza, tutte le attenzioni. Le cinture di sicurezza furono brevettate nel 1909, furono introdotte alla fine degli anni 60. Perché? Perché la sicurezza non era una priorità dell'industria automobilistica e della società. Quindi la società aveva perso, non aveva capito, ha impiegato un secolo, speriamo oggi di non metterci altrettanto, a capire quale sarebbe stato l'impatto. Tutte le tecnologie hanno, per fare un'analogia con i dischi di una volta, un lato A e un lato B. Ci piacerebbe che avessero solo effetti positivi. Hanno sempre degli effetti negativi. Spesso è difficile capirli in anticipo o cerchiamo di non vederli. Quindi qualunque tecnologia si può affrontare, può avere un impatto benefico, qualunque innovazione, purché si sia pronti sul piano culturale, normativo, sociale ad affrontarla. Le scuole dunque, ma anche le leggi. Quindi ci vuole coscienza anche da parte di chi governa? Certo. Il caso, come dicevo prima, delle tecnologie digitali, dove non si riesce neppure a far pagare le tasse ai colossi, come Google e Facebook, è una delle dimostrazioni del ritardo con cui la società e la politica ha compreso quale sarebbe stato l'impatto di questa rivoluzione.